Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione, per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. In questo periodo potrete ricevere PCB di ogni colore a 2 dollari ed uno sconto di 20 dollari sulle spese di spedizione del primo ordine. Ciao a tutti! Come sempre prima di iniziare un saluto ai nuovi patrons della settimana, Massimo e Davide, grazie per il vostro pledge. Vi mando le credenziali attraverso il Patreon sempre, per accedere al portale dove scaricare tutti i sorgenti. Veniamo al video di questa sera. Stasera facciamo una recensione su questo oggetto della Siglent, che è un carico elettronico. Quindi è uno strumento che non è di quelli super indispensabili, diciamo, però può far molto comodo, in particolare ci permetterà di assorbire da un nostro amplificatore o comunque un alimentatore sotto indagino, sotto sviluppo, delle caratteristiche di potenza, corrente, tensione regolabili. Quindi è un oggetto molto utile, per esempio, anche per chi vuole vedere le caratteristiche di una batteria, perché potendo impostare il carico con i parametri definiti, si può sapere la batteria come si comporta in fase di scarica. Buona visione! Procediamo all'unboxing. Ecco qua il nostro strumento. All'interno della scatola troviamo cavo d'alimentazione compresa IEC Sciuco, cavetto USB e manualetto di setup e installazione Kickstart. Il modello in questione è un Seaglent SDL1030XE, che è un carico elettronico in grado di gestire fino a 300 Watt, con 150 V massimi applicabili all'ingresso e 30 A di corrente a livello di carico. La lettera E sta a indicare che la risoluzione di questo strumento può arrivare a 0,1 mA, 0,1 mV, quindi rispetto alla classe 1000, che di solito è 1 mA, 1 mV, ha una risoluzione 10 volte maggiore. Lo strumento ha delle ottime performance dinamiche, infatti è in grado di garantire uno Slew Rate, e quindi una variazione di corrente, che può andare da un minimo di 1 mA per microsecondo fino a 2.5 A per microsecondo. Dispone di connettività USB, LAN e RS232 e in questa maniera quindi può essere gestito da remoto se si devono effettuare dei test su apparecchiature, diciamo anche in produzione. Il pannello frontale è molto pulito e semplice, abbiamo l'interruttore di accensione, connessione USB per un device esterno, i tasti funzione che permetteranno di accedere alle varie funzioni a seconda di quanto indicato nel display, tasterino numerico, modalità di funzionamento, terminali a vite per la connessione al sorgente di alimentazione e uno knob per regolare finemente le impostazioni dello strumento. Sul pannello posteriore troviamo la presa ISI per l'alimentazione a 110 o 230, porta fusibile, connessione USB, in questo caso lo strumento diventa un device, quindi è controllato da remoto, porta LAN per connessione Ethernet, porta RS232 per connessione in modalità GPI-B, USB, due uscite per oscilloscopio che rappresentano il monitor di corrente e tensione e infine un connettore custom che dà la possibilità di accedere a funzioni esterne come la compensazione a sense, trigger e funzionalità in modalità PWM. Dopo aver verificato che lo switch di alimentazione è posizionato sull'alimentazione a 230, togliamo la bandella di sicurezza con gli avvertimenti in scritte cinesi e andiamo a collegare la nostra presa ISI in modo che possiamo alimentare il nostro strumento. Accendiamo il carico, abbiamo lo splash screen della Siglent, quindi un piccolo tempo di boot e in teoria adesso lo strumento dovrebbe partire. Eccolo qua, nel display abbiamo indicato le quattro grandezze principali per questo carico e quindi tensione, corrente, potenza e resistenza. Siamo in modalità corrente costante CC, indicato anche dalla luce su questo bottone. Le quattro possibilità sono tensione costante, resistenza costante, potenza costante. In questa modalità abbiamo l'intervallo range di corrente che può essere selezionato tra 5A e 30A, l'intervallo per la tensione tra o 150V o 36V e poi abbiamo l'impostazione della corrente. In questo caso possiamo utilizzare il tasterino numerico oppure l'hoc knob, girandolo, cambiando al valore e è uno knob che se si spinge setta il valore. Qua possiamo impostare lo slew rate per il tempo di salita, rise, e per il tempo di discesa, fall. Andiamo in modalità tensione costante, anche qui abbiamo i range che si possono modificare, quindi quello di corrente e quello di tensione. Andandoli a cambiare vedete che però la risoluzione non cambia. rimane sempre tre cifre di precisione per gli ampere, quindi un milliampere, e tre cifre di precisione per i volt, un millivolt. Andiamo in modalità resistenza costante, posso cambiare range di tensione corrente, anche in questo caso. La resistenza può variare da un minimo di 30 milliohm a un massimo di 10 kilohm. Attualmente è impostato un valore di un kilohm. Se lo voglio cambiare e voglio per esempio forzare 0, vedete che mi viene restituito 30 milliohm. In modalità potenza costante abbiamo la massima potenza che è di 300 watt, attualmente è impostata su 100, se la vado a modificare anche qui se provo a mettere ad esempio 900 watt, viene bloccata a 300 watt massimi. Se spingiamo lo shift e il tasto cc, entriamo nella modalità dinamico e qui abbiamo la guida per quello che riguarda tutte le modalità. Ad esempio sulla modalità corrente costante vediamo come è dettagliata in termini di definizioni di soglie e intervalli. Si può guardare la modalità, in questo momento è continua, posso vedere ad esempio quella pulsata con tutte le definizioni, oppure anche quella modalità toggle. Anche qua cambiano le definizioni e i parametri. Cliccando sul bottone display abbiamo il grafico delle nostre grandezze che vengono monitorate in tempo reale. Ovviamente si può scegliere il tipo di grandezza da monitorare sul grafico e ognuna di queste, quindi fra tensione e corrente, potenza e resistenza. Si può fare la pausa, lo start, il print è il salvataggio verso un dispositivo esterno come ad esempio una chiavetta USB. È possibile cambiare la finestra in termini temporali, qua adesso abbiamo 4 secondi ma si può aumentare in modo da avere un log anche più ampio. Nel tasto AUX abbiamo delle funzioni aggiuntive come ad esempio la funzione battery che ci permette di verificare la scarica di una batteria, per cui abbiamo indicati tutti i parametri principali tensione, corrente, il tempo e miliampere ora e su questa abbiamo delle opzioni che possiamo modificare, quindi corrente costante, come modo, potenza costante o resistenza costante. Dopodiché anche questa modalità ovviamente è utilizzabile sotto display per cui si può vedere la corrente di scarica di una batteria. Il bottone Storage serve per accedere all'unità memoria di massa interna, quindi vediamo un local disk con le cartelle e i file presenti. Qua di predefinito abbiamo la cartella List con tutta una serie di file che sono utilizzati dallo strumento e anche quella Program. Se ora inseriamo una chiavetta USB esterna, viene riconosciuto come un'unità USB e possiamo andare a navigare ovviamente il contenuto, deve essere formattata come FAT32, infatti in questo caso adesso è vuota perché ha un altro sistema operativo sopra. Nelle funzioni ausiliarie abbiamo anche la OCPT che è l'Output Current Protection Mode che ci permette di testare il nostro alimentatore esterno per quello che riguarda la protezione in corrente. Quindi si possono impostare tutti i parametri come ad esempio la corrente di inizio, la corrente di fine, quella minima, quella massima e la modalità del delta, cioè come la corrente viene assorbita dal nostro carico per fare intervenire la protezione in corrente. L'altra modalità è il Power Protection Mode che ragiona in termini di potenza per cui si possono impostare i gradini di potenza, la potenza finale iniziale, minima e massima e così via. Il tasto On-Off abilita il carico elettronico, quindi se lo spingo si accende e sta funzionando e viene notificato con la scritta. Il tasto Short invece impone un cortocircuito realizzato ovviamente con dei MOSFET, perché questo è un carico elettronico, quindi i MOSFET verranno pilotati per far vedere un cortocircuito su questi due terminali e viene anche indicato a livello di display. Accediamo al menu Utility con Shift e questo bottone, sul System abbiamo tutte le informazioni del nostro sistema. Interface possiamo scegliere per ogni interfaccia i parametri, ad esempio qua sulla LAN abbiamo la possibilità di specificare tutte le caratteristiche dell'indirizzo IP e il DHCP. Sul GPIB mettiamo l'indirizzo, RS232 tutti i parametri di connessione seriale, USB ci viene restituito l'ID della parte del controller USB. Sempre nel menu System c'è la possibilità di fare un Factory Settings, quindi resettarlo completamente o anche di fare l'upgrade, quindi probabilmente con una chiavetta USB e il firmware di aggiornamento lo strumento si può aggiornare. È impossibile impostare le limitazioni dello strumento, quindi come protezione in corrente, protezione in tensione, con tutti i parametri anche relativi al tempo, corrente e interruttore on-off. Nelle funzioni ausiliarie c'è anche la funzione List che è molto comoda perché fornisce una tabellina dove si possono andare a mettere gli step del carico, quindi in maniera programmatica si possono impostare gli istanti tempi e i valori di corrente e tensione che si vogliono impostare. E quindi questa tabellina verrà eseguita dal nostro carico elettronico in modalità ciclica, infatti con il count si possono definire quanti cicli devono essere fatti secondo questa regola. Per impostare gli step si va sulla funzione Step e a questo punto si può introdurre il numero di step. In questo caso io ho impostato tre step con la stessa corrente, ma per ognuno di questi posso andare a cambiare il valore di corrente e tensione e creare delle curve, diciamo, di carico. Infatti ad esempio posso andare nello Step 2 e andare a cambiare il valore di corrente e vedete che il grafico rappresenta il nostro gradino. Step 3 posso scegliere con una risoluzione anche usando il tasterino numerico ad esempio di cambiare le cifre decimali in modo da avere proprio una precisione fino al mA. Questi profili ovviamente possono essere memorizzati con il tasto Storage, si accede al disco e vedete che nella cartella List ci sono già tutti questi profili disponibili. C'è la possibilità di salvarlo e quindi richiamarlo in un secondo momento. Per attivare questa modalità lista bisogna accendere il carico e selezionare il pulsante di trig. A questo punto viene eseguito il nostro ciclo e vengono evidenziati in blu i momenti della curva. Siccome abbiamo messo count uguale a 1 il ciclo è stato eseguito una volta sola. Andiamo a definire un valore di count pari a 5 ad esempio. A questo punto rimettiamo il trigger, ci ricorda che dobbiamo accendere il carico, on. Se mandiamo in trigger a questo punto il ciclo viene ripetuto per 5 volte. Per salvare la lista andiamo su Storage, Save. A questo punto scegliamo il nome del nostro file, ok e vedete che è stato cambiato come List1Default.st e questa può essere richiamata in ogni momento. Le posizioni di salvataggio sono 8, al momento abbiamo occupato solo la numero 1. Sempre nelle funzioni ausiliarie esiste anche la modalità Program che permette di impostare tutti i parametri e anche le soglie di accettazione o fallimento. In questa modalità si può collaudare un'apparecchiatura esterna e registrare i risultati. Infatti se spingo sul bottone Result avremo che tutti gli step verranno registrati con il risultato se l'esito è stato buono oppure no. Tutti questi dati ovviamente possono poi essere esportati su chiavetta USB o anche sul PC tramite le connessioni esterne. Bene, ora passiamo alla parte di test. Collego il mio alimentatore variabile al carico regolabile, impostiamo una corrente massima di questo alimentatore su 4A diciamo, così sarà compatibile con il range massimo di 5V e una tensione di uscita di 35V. Al momento l'uscita è scollegata e il carico è scollegato. Mi posiziono in modalità corrente costante e vado a impostare una corrente assorbita pari ad esempio a 1A. In i parametri del carico vado a selezionare il range di corrente 5A, il range di tensione 36V, qua è 35V e andiamo a impostare una corrente costante di 1A preciso. Quindi andiamo a settarla col knob a 1A. Mantengo questi parametri di sdurate, a questo punto vado a abilitare l'uscita del mio alimentatore, spingendo su output, e abbiamo 35V e 0A assorbiti, in quanto il carico non è ancora inserito. Il carico non è inserito ma dai terminali di input legge la tensione erogata dal nostro alimentatore, 34.965, 0A assorbiti, 0W, 0Ω. A questo punto abilita il nostro carico e impone una corrente di 1A preciso. La potenza ovviamente, essendo tensione per corrente, è in questo momento 34W e la resistenza equivalente, essendo tensione su corrente, è di 34.910Ω. Vedete che il mio alimentatore sta erogando 1A misurato dallo stesso alimentatore. Se ora voglio cambiare la corrente assorbita al volo, posso andare a cambiarla la corrente direttamente qua, ad esempio andiamo a mettere 2A e vedete che automaticamente vengono assorbiti 2A. Quindi non c'è necessità di attaccare e staccare il carico, ma in modalità runtime è possibile cambiare la corrente. 3A, 4A. Quindi in questo momento il nostro carico elettronico sta assorbendo una potenza da questo alimentatore pari a 138W. Mi metto ora in modalità resistenza costante. Vado a impostare nuovamente anche qua i range di corrente e tensione desiderata, quindi qua 150V, 36V lo portiamo e il 30A lo portiamo a 5A. Poi andiamo a impostare una resistenza di 30Ω, così avremo più o meno 1A. Quindi andiamo a mettere 30V, è impostata. In questo momento se spingo ON vedrete che il carico andrà a assorbire una corrente di poco più di 1A. Infatti quasi 35V 1A e 1A. La resistenza che viene imposta dal nostro carico è di 30Ω. Quindi sta regolando in maniera che l'alimentatore veda una resistenza di 30Ω. Ora testiamo la modalità di potenza costante, quindi se clicco su CP vedete che si scancia in automatico il carico e posso andare a impostare come sempre i range di corrente tensione che mi interessano, quindi li tengo bassi e vado a impostare questa volta la potenza. Ad esempio voglio assorbire una potenza diciamo di una trentina di Watt, quindi metto 30W, accendo il carico, questa volta il parametro che viene imposto dal mio carico è 30W e quindi il nostro carico elettronico sta facendo in modo di avere 30W, quindi se l'alimentatore sta erogando 35V in modalità tensione costante, la corrente assorbita è 0,86 e la resistenza equivalente che viene imposta dal carico è di 40Ω. In ultimo proviamo la modalità di tensione costante. Porto il mio alimentatore a 3V è imposto una tensione costante che deve imporre il carico pari a 1V. Se accendo il carico elettronico vedete che la tensione è a 1V, la corrente assorbita è diventata 4A, la resistenza quindi che impone il nostro carico per avere queste condizioni è di 0,24Ω. Il nostro alimentatore infatti mostra in uscita una tensione di 1,26 e 4A erogati. C'è un po' di differenza tra la tensione in uscita e la tensione imposta perché non scordiamoci che abbiamo i cavi, la resistenza dei cavi. 4A su questo collegamento danno luogo a questa differenza di tensione fra la sorgente e quella misurata sul carico. Questo discorso è particolarmente importante e quindi lo strumento è anche provvisto di terminali di sense. Se vi ricordate sul pannello posteriore c'è la possibilità di collegare direttamente la misura non più qui sull'ingresso del carico ma direttamente qui sulla sorgente. Facendo questa connessione con i terminali di sense avremo il perfetto allineamento della tensione di uscita dell'alimentatore e del nostro carico e potremo quindi trascurare la resistenza di collegamento. Vediamo ora la funzione list quella che ci impone un carico al variare del tempo. Vado in tabellina e vado a impostare delle durate un po' superiori a un secondo se no non riusciremo a vederle come ad esempio 3 secondi per ogni step quindi ogni gradino che vediamo qui riportato nel grafico avrà una durata di 3 secondi. Mettiamo il nostro alimentatore con una tensione in uscita 35 e una massima corrente di 4 ampere la funzione è in corrente costante andiamo a lanciare 5 iterazioni di questo ciclo. Se lancio con on accendo il carico e spingo su trig ecco che viene percorso grafico. A questo punto dobbiamo alimentare il nostro generatore e vedete che la corrente che viene assorbita dal generatore varia secondo la legge che abbiamo detto. Questi sono i gradini e questa è la misura di corrente che viene misurata sull'alimentatore. Guardando sul carico elettronico vediamo tensione corrente riportate qui quindi 34 quasi un ampere 0.6 e tutti gli step vengono ripetuti 5 volt. Per fermarci in uno step specifico è sufficiente premere su trig viene evidenziato di rosso lo step e il carico elettronico si blocca in questa condizione di assorbimento. Eseguiamo ora un battery test su questa batteria al piombo 12 volt 5 ampere ora faremo un test a corrente costante per vedere la scarica di questa batteria. Impostiamo i range più bassi quindi 5 ampere 36 volt andiamo a settare una corrente di scarica di un ampere. Possiamo poi scegliere come eseguire il battery test. Se fermare il test ha una certa tensione, se fermare il test ha una certa capacità accumulata che è indicata sempre qua sul display oppure dopo un certo tempo. Per questo test andiamo a settare un valore di tensione di stop ad esempio 11 e 8 volt quindi partiamo attualmente da un valore di 12.3 diremo che il battery test termina quando la batteria viene sentita con un valore di 11.8 volt. Ricordiamoci sempre che la tensione viene sentita qui quindi ci sarà da tenere in considerazione la caduta sui collegamenti. Tutto è pronto per partire. On off ci viene chiesto se vogliamo fare il clear dei parametri che erano indicati e diciamo di sì così azzeriamo tutte le statistiche. Ecco che è partito il test. Vedete come la tensione sta calando leggermente. questa è la capacità accumulata. Questo è il tempo che trascorre e questa è la corrente costante che sta scorrendo dalla batteria verso il carico elettronico. La batteria al momento è a 11.97 quindi in questa modalità qua di test abbiamo detto che si fermerà a 11.8. Se andiamo a vedere il grafico possiamo selezionare ad esempio la tensione ma potremmo guardare anche altre caratteristiche però sempre una alla volta quindi non abbiamo grafici combinati ma abbiamo un singolo grafico e i valori riportati qui. Se adesso spengo off quindi stacco il carico vedremo che la tensione dovrebbe salire proprio per effetto della ricombinazione elettrochimica. Ecco qua vedete da 11.8 è risalita al valore di 12 sta salendo piano piano 12.3. La curva ovviamente si può registrare con la funzione record se mettiamo un record on a giustamente chiede una chiavetta usb dove poter scaricare la curva e quindi registrerà la curva di scarica della nostra batteria e poi se ne potrà fare il playback quindi si potrà rivedere in ogni momento la curva di batteria che aspetto ha. Impostiamo ora un test non più sulla tensione ma sul tempo quindi andiamo a spingere V stop off, T stop lo abilitiamo e diciamo che il nostro test dura 10 secondi per vedere in questi 10 secondi con una corrente drenata di circa un ampere qual è la capacità accumulata. Spingiamo nuovamente on per accendere il carico andiamo a pulire i dati è ripartito il test che durerà 10 secondi quindi dopo 10 secondi il test finisce ecco e ci viene detta qual è la capacità della nostra batteria 2000 ampere ora registrata in questo particolare test. Ok la recensione di questo strumento finisce qua spero che vi sia stata utile come avete visto è uno strumento molto utile per chi progetta alimentatori o convertitori di potenza perché permette di testare le varie funzionalità dell'alimentatore in maniera semplice e soprattutto di monitorarne il comportamento. Per chi lavora in produzione è un oggetto altrettanto indispensabile perché permette di fare dei collaudi in serie delle apparecchiature e come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima Grazie mille! 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 Grazie a tutti.